Stavo giusto per chiamarvi. Serve un'ordinanza del tribunale per fare la biopsia. A proposito di tribunali. Michael Tritter. Lei conosce il dottor House. Bene, potete parlare qui. Non voglio farle causa. Bene. Io voglio fargliela pagare cara. Meno bene. E le spiego il perché. Lei è un prepotente. E i prepotenti non fanno mai marcia indietro. Finché non incontrano qualcuno più forte e più bastardo. Però accetterebbe le mie scuse? Sì. E non le importa se non sono sincera? Io non cerco la sincerità. Le voglio infliggere un'umiliazione. Così magari ci penserà due volte. Prima di trattare un altro paziente come ha trattato me. Le dico cosa faremo. Lei si vanterà con i suoi amici di aver terrorizzato un verme di dottore. Tanto che se l'è fatta addosso. Io mi toglierò la caddie dai piedi raccontandole che mi sono umiliato. Questo è il patto. Mentiremo tutti e due. Io non le farò le mie scuse. Anzi, si meritava un termometro più grosso. Cosa c'è? Jeremy è peggiorato. Allora è andata bene. Aprite la testa a quell'ostinato imbecille e prendetene una fetta. Non si tratta del cervello. L'acido lattico è sopra i 39. L'intestino andrà in necrosi. Questa non è sarcoidosi. Beh, era quello che voleva. Sta morendo. Ma non come potrebbe aiutare la moglie. Allora è andata bene.